A cena con Iena. Faccio questo video per i risvolti inerenti all'allenamento e alla psicologia della gestione dello stesso. Dunque, ho fatto un giro nel lato oscuro del bodybuilding, underground. Il vecchio Plinskin non è una star del tubo, anche se potrebbe anche diventarlo. Volevo semplicemente una cena con un collega, però un po' di buon vicinato. Erano veramente anni che non mi capitava di avere una serata tranquilla. Tranquilli, non è una collaborazione, ho già dato. Penso che per un bel pezzo sarò a posto, per un periodo penso molto lungo. No, una cena tranquilla, buon vicinato. Plinskin, com'è dal vivo, ma è veramente così enorme, è veramente così... Sì, sì, cazzo, sì. C'è poco da fare, è un ammasso di muscoli, peraltro ben distribuiti, o di estetica non capisco nulla, però mi rendo conto quando vedo dal vivo uno così come stanno le cose. Persona molto aperta, molto tranquilla nell'affrontare tutti gli argomenti. Non abbiamo neanche toccato il discorso pesi, non abbiamo neanche toccato il discorso training, né dieta, né altro. Per ragioni inerenti al traffico sono arrivato mezz'ora dopo, non l'ho neanche visto allenarsi. Va benissimo così, perché non avevo la minima voglia di affrontare dibattiti tecnici, di affrontare discorsi sulle split, le programmazioni, gli abbinamenti muscolari, la dinamica degli esercizi. Niente di tutto questo, anche perché ho avuto modo di capire molto velocemente che le nostre idee sull'allenamento sono molto simili. A me non piace disquisire sull'ovvio. Allora, Iena è uno che ha provato entrambi i lati del mondo dei pesi, entrambi i lati del culturismo, il lato bright, il lato dark. Io sono Mr. Brightside, come direbbe Brandon Flowers, il frontman dei The Killers. Io sono il classico Mr. Brightside, non ho mai fatto un giro dall'altra parte, non me ne vanto, sicuramente ci sono delle conoscenze interessanti. In un momento non ho ancora fatto questa scelta e penso che alla mia età non accadrà mai. Però apprezzo chi parla apertamente di queste cose senza nascondersi dietro, ma neanche un dito, dietro un filo interdentale. Ci tengo a dire una cosa che, al di là di quello che voi potete pensare, io non ho visto un accenno di alopecia genetica, non ho visto un accenno di ginecomastia, neanche acne. Ho visto semplicemente un bel pacco di muscoli solcati da vene, poi non voglio fare le descrizioni poetiche perché basta aprire una qualunque rivista di culturismo anni 90 per trovarne a bizzeffe. Non voglio essere io ad ammorbarvi con termini ridondanti, comunque tanti muscoli ben distribuiti, gradevole l'aspetto. Non è il classico blocco di cemento, ha avuto, secondo me, la testa di mettere in ordine anche il suo fisico con tutti i comparti a posto. Una bella linea, secondo me, poi non sono un giudice di gara. Il punto focale del video è il punto importante. Allora, la psicologia del training, parlando con Massimo, la cosa che più mi è rimasta impressa è stata il discorso, è stata quella inerente alla psicologia del post-utilizzo, insomma. Trovare da terra la motivazione, come dice lui nel video, cercare di allenarsi nonostante le condizioni avverse. Questo è un discorso che si può, secondo me, tranquillamente riportare anche nel mondo bright. Perché capiterà a tutti comunque di fare periodi di dieta in cui i pesi non vanno su, periodi in cui la fame si fa sentire, periodi in cui magari si è fatto un inverno con dei record importanti. Poi ci si rende conto che alle soglie dell'estate c'è quel grasso superfluo da togliere e che l'organismo non gradisce andare in carestia e se lo fa il prezzo che vi chiede sono muscoli. Quindi, che voi siete bright o dark, c'è sempre un prezzo da pagare, prima o poi il corpo tira e remi in barca, bisogna allenarsi lo stesso anche se i risultati diminuiscono e questa è la cosa più frustrante perché andare ad allenarsi per perdere muscoli è proprio una cosa mortificante. Però vi garantisco che è peggio non allenarsi proprio perché lì proprio i muscoli tendono a sparire del tutto. Cercare di essere costanti, tenaci, resistenti o resilienti come va di moda a dire oggi sul training. If you don't quit, you can't lose, dice da qualcuno, non mi ricordo chi, ricordo anche Mike O'Ern che parlava di questo discorso, l'importante è la consistenza, apply the consistency, allenarsi sempre, costantemente, tutto l'anno. In un modo o nell'altro continuare, girare intorno agli infortuni, girare intorno ai periodi di scarsa alimentazione, peraltro spesso autoimposta. Questo è un po' il succo del discorso. Ci sono persone che magari, se non hanno certe condizioni, non vanno neanche in palestra e spesso fanno passare mesi senza nemmeno allenarsi. Massimo è uno che ha sempre, sempre curato il training, tutto l'anno. Questa è una cosa che secondo me merita rispetto. Poi come persona, a chi interessasse il lato umano della cosa, non abbiamo neanche toccato il discorso allenamento, ma neanche sulla dieta, neanche i macronutrienti, neanche l'integrazione, nulla. Abbiamo parlato di politica, di economia, discorsi sociali, eravamo a cena in un ristorante. C'è parlato veramente di tutto, come intrattenitore, quando vuole un gran parlatore, quella sera, ieri sera, ne aveva voglia, ci siamo veramente smandibolati dal ridere. Persona, peraltro, con delle idee molto divergenti, molto acute, molto penetranti sulla politica odierna. Idee magari che potrebbero esporlo qualche critica, qualche rischio, però, come diceva qualcuno, se le tue idee non sono scomode a nessuno, o le tue idee non valgono nulla, o tu non vali nulla. Non mi ricordo chi è l'autore, ma la frase mi piace. Che altro dire? Dal vivo, come un atleta del genere, un culturista del genere, dal vivo, è tanto impressionante quanto in video, cioè esattamente quello che sembra. Un uomo di quasi 100 kg, con pochissimo grasso corporeo, tantissimi muscoli e, come ripeto, secondo me ben assortiti, ben distribuiti. Bene, che altro dire? Volevo anche ringraziare Massimo per questa maglietta. Joe Montana, quarterback dei 49ers, San Francisco 49ers, ci meglio che ho accettato, che ho gradito volentieri. Come ripeto, nessuna collaborazione tecnica, io ho chiuso con questa roba, mi ha fatto semplicemente piacere tenere un po' di buon vicinato con un collega dell'underground, per chi come me, come noi, ha questi piccoli canali che fanno divulgazione, e questo è quanto. Grazie a tutti per l'attenzione, Marco Pt, alla prossima.